Ci spiega il principio dell'immunoterapia? Un'altra efficacia, per esempio se noi troviamo patologie con melanoma diffuso, metastatico, noi dobbiamo capirci che gli studi scientifici ci dicono che c'è un intervallo di supervivenza rispetto a, ecco, importante questa è la storia naturale della malattia. Allora, che cos'è la storia naturale della malattia? La storia naturale della malattia è che se a me fanno una diagnosi di cancro al polmone, io poi senza trattamenti ho un mio percorso naturale, in cui c'è un momento in cui peggioro il quadroclinico, mi metastatizzo. Una speranza di sopravvivenza di un certo tipo. Esatto, molti approcci farmacologici, oncologici, spesso ci dicono che l'intervallo di sopravvivenza rispetto all'intervallo naturale è di qualche mese. Ecco, allora a questo punto non vale la pena. Esatto, se invece c'è il salto di qualità, ovviamente con l'immunoterapia, dove l'intervallo di sopravvivenza è decisamente superiore all'intervallo naturale della malattia, questo è anche un altro algoritmo che spesso non viene considerato. Tutti i casi di trattamento dell'immunoterapia per il mesotelioma sono stati certamente certe volte nei tasti, perché con l'immunoterapia si sono avute delle reazioni nella zona gastrointestinale e la persona è deceduta anche giovane dopo un mese per l'immunoterapia. Perché il rischio è la grave e estrema tossicità di grado 4 che alcuni trattamenti immunoterapici in effetto. In realtà poi quello che a me spesso è capitato ultimamente su un mio caro amico paziente è per esempio si va a studiare se c'è quello che in gergo tecnico si chiama ricidiva biochimica. Che cos'è la ricidiva biochimica? È l'identificazione di biomarcatori, marcatori tumorali che sono borderline e che ci dicono che c'è una malattia residua geneticamente presente che produce marcatori tumorali ma che in realtà non esprime la malattia. Allora in quel caso è giustificata l'immunoterapia con l'anticorpo monoclonativo.